Il libro di John Dewey, Democrazia e l'educazione, è uno di quei libri che più hanno influenzato la pedagogia contemporanea. Nonostante che sia passato più di un secolo dalla pubblicazione del volume, quanto Dewey dice ed argomenta nel libro conserva tutt'oggi una grande attualità. Soprattutto il libro contiene delle indicazioni che vengono riportate in larga misura dai programmi scolastici delle scuole odierne senza tuttavia che queste indicazioni trovino nella pratica scolastica quotidiana la loro applicazione. Dewey era perfettamente consapevole che quanto egli veniva proponendo sarebbe stato di difficile attuazione e avrebbe richiesto degli investimenti consistenti nella istruzione pubblica, cosa che evidentemente non avveniva né nell'America dei suoi tempi e non avviene nemmeno nella Italia dei nostri tempi. Nonostante le continue riforme che sono state attuate negli ultimi decenni e che sostanzialmente non solo non hanno inciso in maniera rilevante sulla pratica didattica ma hanno costituito semmai un ulteriore motivo di confusione e di difficoltà nel raggiungere quegli scopi che sono contenuti e affermati in maniera molto chiara nella nostra Costituzione. Bene, ma per tornare a Dewey volevo soffermarmi su una questione in particolare il libro di Dewey è estremamente ricco di suggestioni, di tesi ben argomentate quindi sarebbe impossibile riassumerlo in un video ho deciso allora di concentrarmi su una questione che potrebbe essere di utilità soprattutto agli insegnanti che vogliano, come dire, prendere consapevolezza della difficoltà di raggiungere determinati scopi con i mezzi che abbiamo a disposizione. Che cos'è l'interesse, in che modo l'insegnante può suscitare l'interesse dei suoi alunni Dewey comincia intanto, e questo è un punto secondo me decisivo, fondamentale con l'escludere decisamente che l'interesse per le materie di studio possa essere suscitato da un premio o, aggiungo io, anche dalla promessa di un voto quindi i premi, lui le chiama le esche, che nella concezione pedagogica predominante dovrebbero rendere i materiali di studio interessanti o anche il voto che avrebbe la stessa funzione, cioè una funzione persuasiva o anche dissuasiva Se io studio per prendere un buon voto, evidentemente subordino lo studio, subordino la mia attività scolastica ad un fine estraneo rispetto a questa attività stessa Se io studio perché ho paura di prendere un brutto voto, faccio la stessa cosa cioè la mia azione non è interessante per sé ma può diventare interessante solo nella misura in cui posso ottenere un premio o posso evitare una punizione Ecco, questo tipo di tattica pedagogica per rendere interessante una materia di studio, un'attività scolastica è considerata da Dewey, come dire, altamente diseducativa quindi non adeguata a raggiungere i fini dell'educazione ed i fini dell'educazione per Dewey sono quello che ci si dovrebbe aspettare da una considerazione di buonsenso di tutto il processo educativo sono sostanzialmente fornire i giovani di quegli strumenti che li rendano capaci di adattarsi efficacemente alla società ed eventualmente di cambiarla anche in senso democratico ma per tornare al nostro discorso in che modo dunque Dewey concepisce l'interesse ecco, l'interesse autentico egli, diciamo così, per spiegare questo punto fa un cenno all'etimologia della parola interesse interest del libro di Dewey è scritto in inglese ma evidentemente la parola interesse in inglese come in italiano deriva dalla parola latina che significa appunto ciò che sta tra interesse, ciò che sta tra quindi l'interesse egli lo concepisce come tutta quella serie di attività che stanno tra una situazione iniziale in cui si trova l'allievo che è privo di determinate competenze tra questa situazione iniziale e una situazione finale in cui l'allievo ha acquisito queste competenze e è in grado di usarle nella vita di tutti i giorni sostanzialmente il processo di educazione è un processo di formazione dell'individuo il quale acquisisce pian piano con l'aiuto dell'insegnante quelle capacità, quelle abilità, quelle competenze appunto che lo renderanno capace di raggiungere dei fini sociali dunque se l'interesse è diciamo così l'intero processo di formazione tutte quelle attività che stanno tra questi due estremi quindi una situazione iniziale in cui l'alunno non è capace di fare determinate cose e una situazione finale in cui l'alunno ha acquisito queste capacità evidentemente queste stesse attività questo stesso processo e deve essere interessante di per sé cioè si deve fare in modo intanto che queste attività siano alla portata dell'allievo e che l'allievo provi piacere nel compierle quindi provi piacere nell'impegnarsi in queste attività per sé stesse e non perché l'impegno sia subordinato a un secondo fine quale può essere appunto come dicevamo un premio che riceverà dal maestro o dai genitori per aver compiuto il lavoro oppure il voto scolastico ecco dunque la pedagogia di Dewey è molto chiara su questo punto e la conseguenza se noi dovessimo immaginare una seria riforma scolastica la conseguenza sarebbe sostanzialmente l'eliminazione dal campo dell'educazione di tutti quei come dire quei premi di tutti quegli elementi che siano appunto estranei che costituiscono diciamo così delle esche per rendere il materiale di studio interessante e che sostanzialmente poi si trasforma in una specie di corruzione del processo stesso dell'educazione che viene subordinato a fini estrani una tale riforma quindi eliminerebbe evidentemente dalla scuola dal processo educativo i voti i premi per concentrarsi invece sulle attività in modo tale da rendere queste attività scolastiche di per sé interessanti in modo tale che l'allievo nel dedicarsi a queste attività formi se stesso e al tempo stesso tragga soddisfazione dal compiere le attività stesse è evidente dunque che siamo ancora molto lontani da questo traguardo perché nella pratica scolastica si cerca in tutti i modi di superare in un certo senso quella noia quel senso di obbligo che ha sempre costituito un ostacolo all'apprendimento attraverso delle esche che nulla hanno a che fare appunto col reale con l'autentico processo di educazione attraverso